Il contropiede di Filippi prosegue Garlini, Schachner si destregia splendidamente in area e batte Garella. Il Verona non si demoralizza, si slancia in avanti e sei minuti dopo l'arbitro Ballerini concede il rigore per un atterramento di Fanna da parte di Ceccarelli. E Penzo non si lascia sfuggire l'occasione per pareggiare e rimanere solo al comando della classifica Cannonieri.